Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti veramente per questa bella serata. Ascoltando il primo brano, stavo pensando a nostro padre Sant'Agostino, di cui seguiamo noi la regola, e lui dice, una roba del IV secolo, 16 secoli fa, lui dice che quando si parla, solo il cervello è in movimento, la parola è una cosa mentale, mentre quando si canta, è tutto il corpo che si muove, corpo, mente e anima. E lui diceva che cantare vale pregare due volte, insomma, aveva ragione, l'abbiamo già sentito e visto, e allora vi inviterei anche voi a muovervi, se volete, perché le mani con le braccia, insomma, pregare tutto il corpo, tutta la mente, tutta l'anima. Buona serata a voi. I pensieri travalidano i secoli, i confini, la musica anche travalida i confini. Buona serata a tutti. I pensieri travalidano i secoli, i confini, i confini, i confini, i confini, i confini, i confini, i confini. I pensieri travalidano i secoli, i confini, 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 i conf Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.